Una richiesta di trasparenza da parte dei partiti di opposizione in Consiglio regionale della Lombardia. La minoranza che siede al Pirellone ha sollecitato l'intervento dell'assessore al welfare Letizia Moratti per illustrare le richieste di modifica della riforma sanitaria avanzate dal Governo. La riforma della sanità, targata Moratti, infatti, non verrà impugnata dal Consiglio dei Ministri, ma la Lombardia si dovrà comunque impegnare a modificare in alcuni aspetti entro la fine di marzo. Questo è quanto stabilito dal Governo. Letizia Moratti, intervenuta oggi durante la seduta consigliare, ha precisato che l'esecutivo, nel confermare pienamente l'impianto complessivo delineato dalla legge, ha consentito a Regione Lombardia di fare propri alcuni suggerimenti che apporteranno, dice, un ulteriore miglioramento del testo, escludendo qualsiasi ipotesi di impugnativa. Tuttavia, dalle fila dell'opposizione, i consiglieri precisano che le perplessità espresse a Roma sono importanti e chiedono chiarezza. Abbiamo ottenuto come opposizione, in particolare come Partito Democratico, che l'assessore Moratti venisse in aula per raccontarci quello che è successo. Da giorni abbiamo letto, abbiamo sentito di trattative tra Governo e Giunta regionale sulla legge della sanità, non ne sapevamo assolutamente nulla. E questo è un chiaro segno di mancanza di rispetto nei confronti del Consiglio regionale. Ci troviamo di fronte a una retromarcia evidente a cui è stata costretta Regione Lombardia. Primo, il tema delle case della comunità. Lombardia deve adeguarsi a quello che prevede il PNRR. Non voleva farlo fino in fondo. Due, le nomine dei direttori generali della sanità. Regione Lombardia aveva previsto una platea molto ampia, dettua 300 nomi tra cui scegliere. Il Governo dice, no, sono troppi, altrimenti la tua discrezionalità è eccessiva. E terzo, il funzionamento delle ATS per quanto riguarda gli accreditamenti dei privati. La Regione aveva detto che ogni ATS sul territorio poteva sostanzialmente arrangiarsi. Il Governo dice, no, è la Regione che centralmente deve prendersi le sue responsabilità. Non mi sembrano aspetti di poco conto, quindi non ci vengono a raccontare che sono modifiche solo formali.